Quest'anno è un anno particolare, abbiamo voluto un albero tradizionale, abbiamo illuminato attraverso le luminarie tutte le borgate della città, qui siamo in Piazza della Repubblica, il cuore di questa città, il cuore di Montecchio è il luogo principale e centrale. Come vedete qui sono tutte le lampade a led nuove della nuova piazza che è anche in corso un progetto di ulteriore miglioramento e le luminarie per ridare un po' più di serenità. Alcune persone hanno sollecitato, quest'anno non fate niente, facciamo una cosa molto più sobria, l'anno scorso c'era la banda, c'era la musica, quest'anno per rispetto anche dei dipunti che abbiamo avuto, e che faremo delle iniziative specifiche, particolari, però come si vede la città è tutta illuminata, è tutta abbellita, stiamo domani, dopo domani inaugureremo la nuova pista per donare ciclabile, la settimana successiva, sabato prossimo la nuova piazza a bottega, ecco si vede che c'è una vivacità, una vivacità in tutta questa illuminazione con tutte le lampade a basso consumo energetico, con tutte le lampade a led, illuminati i parchi, illuminati le piazze e le luminarie in tutto il percorso che è un percorso abbastanza lungo perché non è che Valefoglia è tutta concentrata su piazza della Repubblica di Montecchio, sono diverse le frazioni, abbiamo cercato di mettere degli alberi anche nelle frazioncine più piccoline, di illuminare tutto anche dove c'erano poche persone perché bisogna provare a ridare un Natale con serenità, pensando al dopo Covid, al vaccino, alla necessità di avere una città industriale che punta alla piena occupazione e che punta anche alla bellezza, alla tranquillità, alla serenità, alla sobrietà, perché non c'è bisogno, noi abbiamo preso le stesse cifre dell'anno scorso e quindi abbiamo cercato di tener conto anche di contenere le spese per l'abbellimento della città. Ci sembrava indispensabile farlo, soprattutto in virtù di quella fascia di età che i bambini della primaria, che mentre gli altri anni magari riuscivano a festeggiare anche tra di loro, magari con recite o altre manifestazioni scolastiche, quest'anno causa Covid ovviamente tutte queste iniziative verranno meno. Quindi illuminiamo, la luce è anche un po' un segno di speranza, speriamo di donare comunque un po' di gioia e serenità malgrado il periodo complicato. I commercianti anche di Vallefoglia che aiutano il comune anche a donare qualcosa per fare questo abbellimento della piazza, Stefano che passa il suo primo Natale proprio qua a Vallefoglia ha donato parti per l'albero, non solo questo qua di Montecchio, ma anche per il prossimo che poi è di Piazza Rosina e Bottega. Sì, grazie della domanda, approfitto per ringraziare Stefano per il graditissimo dono con cui abbiamo addobbato sia l'albero qui in piazza della Repubblica Montecchio che l'albero in piazza Rossini e soprattutto grazie a Stefano perché lui è uno di quei commercianti purtroppo colpiti dalle limitazioni sul Covid e dalla chiusura nel weekend, quindi infinitamente grazie.